Agenzie web, professionisti del web. Ecco, un tasto dolente. Il punto è che oggi tutti dicono tutto, ma ve ne rendo conto che è così in ogni settore. Ci sono quelli che lavorano veramente bene, che ti forniscono veramente delle informazioni utili e ci sono quelli che lavorano veramente male e ti forniscono delle indicazioni veramente stupide e veramente inutili e non ti porteranno da nessuna parte e ti porteranno a credere che in realtà tutto questo mondo di internet non funzioni poi così bene, che forse non dovevi creare questo e-commerce. Hai creato questo e-commerce ma alla fine non funziona e questi qua dell'agenzia ti dicono che bisogna metterci più budget, bisogna pagare di più. Quindi, il punto è, che cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere una cosa sola ma essenziale. Come capire se un'agenzia di web, un'agenzia web ti sta prendendo in giro? Essenzialmente un'agenzia web ti prende in giro nel momento in cui uno ti promette che con un semplice pacchetto che costerà X ti realizza e-commerce e ti porta il traffico e che quindi tu sarai a posto con queste due cose. Questa è un'agenzia che ti sta prendendo per il culo perché quello che fa è costruirti un e-commerce sulla piattaforma che loro decidono di fare perché la piattaforma non è la migliore, è quella che loro sanno utilizzare meglio e su questa piattaforma loro ti costruiscono il loro e-commerce. Bene, dopodiché nel pacchetto è previsto anche una bella campagna di AdWords. Quindi tu magari vendi scarpe e loro fanno in modo che quando le persone cercano scarpe magari tu vendi scarpe a ginnastica Nike, quindi quando cercano scarpe a ginnastica Nike, puff, appare la tua inserzione e quindi se cliccano arrivano al tuo sito. Molto bene, quindi hanno mantenuto le promesse ti hanno fatto un e-commerce e ti hanno portato traffico all'e-commerce. Ma forse non ti hanno detto o magari te l'hanno detto ma l'hanno reso così veloce, non siamo andati nel dettaglio, che chiaramente questo traffico lo paghi e ogni volta che le persone cliccano tu paghi. E fin qua non sarebbero grossi problemi perché quando si ha un business è normale pagare per ottenere clienti eccetera, dare un avere, è giusto così. Ma il punto è che quello che non ti hanno detto è che quando le persone atterrano sul tuo sito devono poi trasformarsi in clienti. E se questo sito è semplicemente un sito con un difficile che vengano trasformati in clienti le persone che arrivano direttamente così da Google, che non hanno mai visto il tuo sito, non conoscono la qualità dei tuoi prodotti, non conoscono come sei tu e quindi per quale motivo dovrebbero acquistarli lì? Quando potrebbero andare su Amazon dove hanno la tranquillità che gli arriverà il prodotto in pochissimo tempo, che per qualsiasi problema possono contattare Amazon e hanno un customer care della madonna. Tutte quelle cose che invece non sanno se le potranno avere nel tuo e-commerce. Quindi quello che ti hanno costruito è una macchina su chi ha soldi. Quindi ti hanno costruito un e-commerce e ti hanno costruito il modo per drenare via i tuoi soldi dandoli a Google oppure dannoli a Facebook in base al tipo di campagna che hanno deciso di farti. Queste dal mio punto di vista sono delle agenzie web non truffaldine perché è un brutto termine da dire, ma magari semplicemente che la vedono così, cioè sono limitate, hanno un tetto. Quindi arrivano fino qui e loro fanno il massimo che possono è fino qui. Ma tu vuoi andare oltre perché tu vorresti guadagnarci con questo e-commerce. Quindi un'agenzia web che è veramente di un altro livello è un'agenzia web che entra nel dettaglio, che ti spiega come, qual è l'idea di come si vuole arrivare a trasformare le persone che arrivano sul tuo e-commerce in clienti e sanno fornirti un piano preciso di tutte le azioni da fare per raggiungere questo obiettivo. E non solo, sanno fornirti un piano di come andare a intervenire su ogni fase in caso che il primo piano non funzioni. Quindi tu lo metti su, metti su questo primo piano, funziona e non funziona, allora vai a intervenire nei punti giusti per riuscire a farlo funzionare. Ti forniscono tutti gli strumenti per agire in modo continuo, per far crescere il tuo e-commerce. Non ti lasciano lì nella cacchetta nel momento in cui semplicemente le persone arrivano e non si trasformano in clienti. Questo è quello che fanno le agenzie che arrivano solo fino qui. Quindi ti costruiscono l'e-commerce, ti portano il traffico semplicemente facendotelo pagare, questo sarebbe capace anche un bambino, dai 1.000 euro a Google, ti arrivano delle persone. Fine, secco. Poi bisognerebbe andare a vedere dopo nel dettaglio perché magari con 1.000 euro potresti riuscire a portare 200.000 persone, adesso sparo dei numeri completamente a caso, oppure magari ne potresti riuscire a portare 500.000 oppure 10.000. Quindi anche lì bisogna essere capaci di fare questo tipo di inserzioni anche semplicemente solo per portare il traffico, per portarti le persone sul sito. E questa è una cosa che tante volte se tu ti sei fatto fare il sito e non mastichi bene l'argomento puoi venire abbindolato un pochino da tutti. Cioè essenzialmente perché è come quando vai dal meccanico, il meccanico ti dice sì, c'è lo spinterogeno, adesso lo spinterogeno penso che non ci sia più, ma è lo spinterogeno signora! E tu dici, va bene, va bene, cambiamo lo spinterogeno. Poi magari in realtà era tutta un'altra cosa che magari costava meno, ma ti dicono che è lo spinterogeno perché così tu spendi di più, bla 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 bla. Ma se non conosci il tema è facile che tu venga abbindolato. Quindi, tralasciando questo discorso che già potresti essere abbindolato anche dal punto di vista del ti portiamo il traffico, spendi 100, ti portiamo 20 persone, quando in realtà magari te ne potevano portare 200 di persone se erano bravi, se riuscivano a creare il tutto fatto bene. Ma tralasciando questo discorso, se semplicemente ti costruiscono l'e-commerce e ti portano del traffico facendoti pagare dei soldi e si fermano lì, allora non ti hanno fatto un servizio di agenzia web, di agenzia di marketing ma ti hanno fatto semplicemente un servizio tecnico. Ti hanno creato tecnicamente una struttura dove si possono comprare cose e tecnicamente ti hanno impostato un sistema che ti porta delle persone pagando. Fine. È una cosa base, base, completamente base, che potevi fare anche tu. Semplicemente potevi andare su Shopify, realizzavi il tuo e-commerce con pochi click. Essenzialmente è veramente, alla portata di tutti, non è difficile realizzare l'e-commerce base su Shopify. Dopodiché pagavi 30, 40, 50, non mi ricordo quanto è, al mese e ti tenevi su questo sito e basta, te l'hai rifatto da solo. Dopodiché andavi su AdWords o su Google o su Facebook e andavi a impostare le tue campagne, quindi portavi sicuramente del traffico sul tuo sito, avevi speso molto meno, perché ci sono delle agenzie che chiedono migliaia, migliaia e migliaia di euro per realizzarti questo pacchettino, avevi speso molto meno e avevi ottenuto gli stessi risultati. Quindi, per capire se un'agenzia è un'agenzia con... Eh, ci siamo capiti, te ne accorgi nel momento in cui hanno un programma che va al di là di questa linea, nel momento in cui ti forniscono gli strumenti per trasformare, convertire davvero le persone in clienti, non semplicemente te le portano sull'e-commerce e poi, vabbè, ragazzo... Eh, se non vendi è perché hai dei prodotti che fanno schifo, oppure, ah, ma ormai con Amazon non si può fare nulla. Ok? Quindi questo è il modo per riconoscere l'agenzia giusta. Se ti interessa approfondire questo argomento, allora segui il mio prossimo webinar, lo trovi su www.amosboilini.it slash webinar, dove ti potrai iscrivere per il prossimo evento. Andremo a parlare di come portare traffico al tuo e-commerce, quindi è quello che avrebbero potuto fare, che fanno tante agenzie, no? Che però magari te lo fanno semplicemente dicendoti, guarda, diamo 100 euro al giorno a Facebook, ecco che abbiamo portato il traffico. In questo webinar invece andremo a vedere come farti una struttura che ti porti traffico anche organico, dove è traffico che quindi non devi pagare. E andremo a vedere come sfruttare al meglio anche le pubblicità su Facebook e su AdWords. Ok? Questo è il primo punto. E andremo a vedere come convertire queste persone in clienti, quindi andremo a vedere lo step successivo, quello che manca per arrivare qua in alto, per arrivare dove vuoi arrivare, per arrivare al punto in cui il tuo e-commerce comincia a macinare vendita e comincia ad andare in positivo. Quindi tu hai spendi 100 e ottieni 200, che è quello che vuoi ottenere. Quindi ti aspetta il webinar. Iscriviti subito su www.amosboilini.it slash webinar. Ci vediamo là. Grazie a tutti.